Abbiamo semplicemente chiesto che prevalga il buonsenso perché è chiaro che questa richiesta vuole sfruttare l'immagine del prosecco vero, quello italiano, per un vino del tutto marginale in Croazia. È emersa una linea comune dell'Italia nella difesa del nome prosecco e delle identità italiane. Dopo mesi di polemiche infuocate sui media e nelle commissioni competenti, il caso prosecco è sbarcato all'Europarlamento di Strasburgo in seduta plenaria, forse l'ultimo passaggio istituzionale prima della pronuncia definitiva da parte della Commissione. Adesso passerà nella Commissione europea, ovvero quella presieduta dalla Bonda Ragnar, che tra qualche mese deciderà se accogliere o non accogliere la domanda che i croati hanno presentato. Commissione che per il momento non scioglie le riserve, che per bocca della commissaria d'uguaglianza Elena Dalì, in sostituzione della collega all'agricoltura, ha comunicato che sono 12 le opposizioni arrivate all'istanza di riconoscimento del vino dolce croato, che a loro volta saranno girate alla Croazia, così come le risposte di quest'ultima verranno inoltrate all'Italia. Una vicenda scandalosa da chiudere subito a tuono da Venezia Luca Zaia, forte del sostegno di un fronte trasversale a partire dal Friuli Venezia Giulia. Tra i tanti motivi di un secco no al prosecco, aggiunge Zaia, c'è una riserva del nome con un decreto del 2009 che firma il quando ero ministro, riconosciuto dall'Europa, e c'è il pronunciamento dell'UNESCO che nel 2019 ha dichiarato patrimonio dell'umanità le colline del prosecco di Conegliano Valdobiadene. Ad appoggiare l'Italia, diversi paesi europei, a cominciare dalla Francia, quella che accanto al nostro paese rischia di più, afferma lo stesso Gian Antonio Darè, porta un esempio concreto, Dorfman. Immaginiamo la richiesta di un nome champagnacro, portolese o una cosa del genere, quindi si sono ben resi in conto le grandi denominazioni che questa volta è capitato al prosecco, però potrebbe capitare domani alla Mosella, al Champagne, al Bordeaux, a chiunque in Europa. Grazie a tutti.